Le immagini girate con le nostre telecamere nel settembre del 2020 parlavano già da sole sullo stato di degrado in cui versava il tratto della località Sant'Angelo, più esattamente lungo la strada comunale Feriano. I residenti hanno protestato più volte contro l'amministrazione per le numerose buche e l'impraticabilità di quella zona portando disagi non solo a loro ma anche ai camion che riforniscono le varie attività del luogo. In questi giorni con l'avvio del cantiere e delle asfaltature sono partite le operazioni di riqualificazione del manto stradale con una particolare procedura. Sono molto contenta di essere qui perché finalmente diamo una risposta a quei cittadini che hanno protestato, possiamo dire anche giustamente per le condizioni di questa strada perché era veramente in una condizione pericolosa, non si poteva più mantenere così. Infatti dopo i vari rallentamenti dovuti anche all'aumento dei costi, alla preparazione del cantiere, finalmente possiamo dire che stiamo intervenendo. È una strada importante di collegamento e infatti il lavoro che si sta facendo qui non è mai stato fatto per una strada periferica, è una lavorazione che parte dal pacchetto stradale, quindi si sta facendo proprio tutto il fondo dell'intera strada per poi eseguire un'asfaltatura a freddo. L'asfaltatura a freddo permette alla strada di essere più elastica rispetto alla tradizionale asfaltatura, quindi per una zona di periferia dove ci sono movimentazioni del terreno è molto più flessibile, quindi in futuro il mantenimento di questa strada potrà essere molto più facile e più semplice. La strada è lunga circa 2,2 km e la stabilizzazione del terreno e tutto questo lavoro sul pacchetto stradale è un impegno economico importante per il Comune di Fano, ma siamo contentissimi di averlo fatto perché appunto diamo veramente una risposta importante, soprattutto sicurezza stradale, sicurezza a tutti i cittadini che percorrono questa strada.